Sicuramente ci saranno dei provvedimenti disciplinari, l'ho visto dai giornali, stiamo a vedere, credo di aver espresso una posizione, che è la posizione dei nostri amministratori, non credo sia una posizione politica, decideranno e faranno le loro valutazioni in completa armonia e sintonia. Gli è costato un procedimento disciplinare con il rischio di essere espulso dal partito, l'esternazione fatta al Corriere della Sera sulla posizione dei vertici della Lega in tema di vaccinazioni anti-covid, in cui avrebbe messo in luce la contrapposizione tra una Lega romana e una Lega del territorio, tuonata come una critica aperta al segretario Salvini. Per la prima volta al microfono, dopo la bufera, stempera la polemica fornendo la sua versione dei fatti, brandendo la bandiera della necessità di sintonia per far fronte all'emergenza sanitaria. È successo che ho ribadito la linea dei governatori, dei sindaci, magari che non è in sintonia perfetta con Matteo Salvini, che mi pare sia stato un po' vago. Non è nulla di che, è solo una linea che, secondo me, bisogna fare squadra contro questa pandemia ed è l'unico sistema, non è certo quello di pensare o ripensare.